ebbene sì ebbene sì so che l'avete letto dal titolo ma anche se non l'aveste letto vista la location sapete già di cosa parliamo oggi perché dentro questa borsa marchiata dj c'è il nuovo flagship di dji il nuovo mavic pro 3 anzi mavic 3 cine in realtà perché ci sono tre versioni c'è il mavic 3 pro il mavic 3 pro in fly more combo cioè pro normale ma con tre batterie e il mavic 3 cine ragazzi intanto partirei da questa borsa magica non è vero non ne parliamo approfonditamente perché dopo vi spiego diventa uno zaino cose magiche mistiche tra l'altro è tutta camosciata per dentro una figata abbiamo un telecomando di dimensi cioè guardatelo è grande come la mia faccia e abbiamo l'altrettanto giganorme drone il mavic 3 cine con questo mutandone a coprire tutta la parte di gimbal di eliche a tenerlo tutto bello compatto ci si presenta il drone dobbiamo fare leva su questo piccolo fermaglio per girare appunto la fibbia e liberare l'enorme fotocamera asset blood o meglio la doppia fotocamera gigantesca qua sul davanti come estetica beh molto molto figo occhi di pesce qua davanti queste fotocamere per le vita ostacoli che sono più grandangolari del solito secondo me sono sembrano veramente gli occhi di un pesce che compreso poi al mercato ma abbiamo le vita ostacoli 5.0 dovrebbe evitare gli ostacoli in maniera magica adesso vedremo braccetti super sottili molto più sottili di quelli di un movi care si aprono comunque sempre alla solita maniera comparto estetico beh abbiamo la batteria che esce dal lato posteriore batteria gigantesca che fa praticamente 50 per cento del peso del drone cioè tutto questo pesa come questa ma ci sta è la batteria apprezzo la scelta di inserirla da dietro comunque ci dà accesso al pulsante di accensione anche se non è sul lato superiore dissipatorone sul lato superiore assieme ad altri due sensori di ostacolo cioè le due fotocamere per le vite ostacoli due fotocamere di dietro ma sempre angolate a 45 gradi è il primo drone di gii dove le fotocamere delle vite ostacoli sono a 45 gradi di solito le vedevamo sempre stereoscopiche ma più o meno allineate alla stessa maniera invece è come se facessero i quattro angoli doppia fotocamera anche sul lato inferiore led per l'atterraggio dissipatorone ovviamente di alluminio come ormai siamo abituati ma quello che fa da padrone dal lato estetico è questa gigantesca doppia fotocamera assedate perché doppia perché ne abbiamo una potentissima con una risoluzione fighissima che fa apple progress 4 2 2 5k cose magiche e l'altra che fa 28 per di zoom dichiarato allora si chiama zoom ibrido vuol dire che non sono 28 per di zoom ottico ma mi hanno detto che è una cosa incredibile adesso lo proviamo bellissima la scritta maviche 3 cine qua su braccio che sbrillucci che l'hanno fatta molto più aggressiva dal punto di vista estetico rispetto agli altri anni così flexi un drone che anche come prezzo importante parliamo anche di prezzo tra un attimo volevo giusto finire di dirvi che la batteria gigantesca ci dà da scheda tecnica 46 minuti di tempo di volo quindi più di tre quarti d'ora loro mettono sempre un minuto in più rispetto al tempo dichiarato dicono 31 invece che 30 dicono 46 invece che 45 in modo che non suona come un'approssimazione per eccesso ma suona come un valore vero ma abbiamo imparato a fidarci abbiamo imparato a sapere che dice effettivamente i tempi che dichiara sono quelli l'ultima altra cosa hardware che non vediamo perché sta dentro è ragazzi tenetevi forte per questa versione mavic cine un tera di ssd un tera di ssd a bordo perché chiaramente fa dei file enormi progress 422 sono pesantissimi infatti per quanto riguarda il comparto connettività abbiamo la usb c light speed dicono non è un lightning un light speed vabbè 10 gigabit comunque di velocità sulla usb c e abbiamo il wifi 6 anche quello dovrebbe reggere più di un gigabit di velocità di trasferimento dati perché se no come lo scarichi un tera di ssd a bordo però ci sta perché i file pesano tanto se usi la massima qualità disponibile la useranno la userebbero solo i professionisti io non vi registrerò clip in progress oggi però siamo in questa bellissima location e come al solito qua a stresa sul lago maggiore abbiamo isola bella alle mie spalle non possiamo non volare con questo mavic 3 pro ma ricche trecine devo devo abituarmi ragazzi è giunto il momento fatemi prendere confidenza con questo telecomandone perché è importante come dimensioni abbiamo lo schermo integrato con il sensore di luminosità antenino un po più corto dei vecchi radiocomandi dj ai ma ci può stare perché sono i 5 gigahertz immagino tanto sul mavic air 2s quelle robe la non abbiamo nemmeno le antenne quindi il fatto che siano esterne comunque è sicuramente un plus valore doppio a rotellina una per l'inclinazione del gimbal una penso per la sovraesposizione e sottoesposizione modalità cine normal sport è tutto con le meccaniche così precise tutto così bello vogliamo ragazzi vogliamo ma in tutto questo siamo qua con il buon yaki perché il drone è suo è appena fatto un volo che figata bellissimo bellissimo prime impressioni sul drone perché allora io posso dire che per quanto mi riguarda per le mie esigenze il 2 pro andava già benissimo 2 pro una bomba ma l'air l'air non l'ho provato mai a mini penso che sia la soluzione migliore appunto se il mini è tanto comodo è veramente figo detto questo è una bomba la cosa che mi ha colpito di più è veramente la batteria nel senso che tu lo tieni su all'infinito non ho mai finito la batteria con lui che mi dice torna a caso perché finita la batteria perché avevo finito le cose da riprendere sì 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 beh 45 minuti ti durano veramente per tutto quello che può riprendere su di un posto la versione cine è totalmente overkill per un professionista però la versione cine va un po sostituire quel phantom 4 quel quasi gamma inspire quasi visto che gli spai non li stanno più facendo 4 è totalmente inutile in questo momento e gli inspire sono totalmente troppo grandi quando puoi avere la stessa qualità video passi dal mavic al matrice ormai dai non vedo l'ora vogliamo via altra batteria ma mi si riscura un attimo qua in mezzo perché questo segmento è sponsorizzato da cabit ve lo ricordate quello storage o quel coso nero a forma esagonale storage distribuito tutto quanto no non ve lo ricordate lasciate che ve ne ricordi io cos'è cabit è uno storage distribuito in cloud tra virgolette solo che non c'è un cloud centralizzato ma è appunto distribuito i tuoi file sono spezzettati con la dovuta ridondanza dei vari pezzettini in modo che si possano ricostruire criptati e piazzati dei piccoli pezzettini in tanti cabit di tanti utenti diversi questo è geniale perché super disaster proof cioè è a prova di apocalisse cioè succede qualcosa in un posto non so prendono fuoco il server di dropbox se tutti i dati sono in un posto solo quei dati vengono distrutti ma se i dati sono sparpagliati in tanti posti diversi e ce ne sono anche più copie in modo che comunque se un po di queste copie vengono distrutte il tuo file si ricostruisce tranquillamente i dati diventano super resilienti a qualsiasi tipo di sfiga possa capitagli ma non solo questo per il fatto di comunque comprare un dispositivo hardware connetterlo e anche se i tuoi file non sono lì tu hai comunque comprato un hard disk cabit funziona a one time payment cioè tu compri l'oggetto e quindi possiedi quello spazio e quindi mica è un servizio ad abbonamento paghi quando lo acquisti e quello spazio è tuo per sempre fate conto ad esempio di un abbonamento dropbox che su cinque anni ti costa un buon 600 euro uno non ci pensa perché magari non è tantissimo al mese rispetto invece a comprarti uno storage ed avvertelo tuo per sempre inoltre se cambi idea entro 30 giorni puoi restituirlo e ti rimborsano tutto quanto inoltre con il link in descrizione avete il 20 per cento di sconto sull'acquisto del vostro cabit link in descrizione torniamo al drone allora telecomandone è uno smartphone android non è uno smartphone però comunque è un dispositivo android qua dentro quindi si possono installare le varie applicazioni c'è firefox per dire non servirà mai a niente però c'è firefox se volete fare scouting dei posti belli cercandoli su google immagini fate hotspot dal telefono e vi riguarda sul radiocomando stesso ma essendo android posso anche registrare lo schermo cosa comoda perché così adesso vi mostro nel tempo reale anche quello che vediamo dal drone salve molto bene direi decollo è assurdamente silenzioso cioè se sta a terra con i motori accesi gli altri droni li sentivi questo qua è inesistente è inesistente non so come abbiano fatto non so quali magie perché già i mavic air 2 2s erano molto silenziosi ma questo qua è assurdo veramente assurdo unico problema comunque di avere un android integrato nel radiocomando anzi i problemi sono due il primo è che non ha internet come il telefono ha di base e quindi tipo le mappe vedete non sta caricando la mappa perché perché non gli stiamo facendo hotspot con il telefono secondo problema che forse da questo mavic 3 verrà risolto è il fatto che se ne fregavano sempre degli aggiornamenti dello smart controller è sempre stato aggiornato tipo con due settimane di ritardo rispetto all'applicazione per ios e quindi le nuove funzioni quando mettono roba nuova che sei scimmiatissimo che arriva in ritardo però il smart controller era sempre un accessorio un po di nicchia che compravi a parte invece questa volta essendo un attivo di un drone speriamo in aggiornamenti un po più frequenti let's go allora non so se lo schermo o lui che è un po strano un po contrastato è un po tendente all'azzurro ma poi lo vedremo nelle clip anzi voi lo starete vedendo guardate i colori di questa orbita attorno all'isola bella guarda i colori palazzo borromeo riflessi sul lago sarà anche la giornata ma è anche lui tanta roba vabbè che costa come 5 mavic air 2s non lo so ho paura anche di contare buttiamoci sopra la città vediamo se abbiamo le vite ostacoli acceso lo scopriremo solo al primo albero radiocomando pesa però secondo me ci sta mi piace avere un radiocomando pesante in mano che mi dà un bel feeling di cosa massiccia solida con cui posso agire intervenire fra quello che mi pare telecomandi leggeri c'erano i droni cinesi vabbè non che il dj sia particolarmente italiana peccato solo che essendo un firmware di pre rilascio perché il drone esce domani non abbiamo ancora l'active tracker non si può cliccare cose cioè manca un po di cose ma perché siamo nell'anteprima via facciamo qualche clip grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Mavic Air 2 americano, del quale avevo visto video, ma anche il 2S sicuramente, dal trasponder degli aerei ad USB, prende solo le informazioni GPS sulla posizione, non sull'altitudine. Quindi ti avverti anche se passa un aereo molto alto. Ce n'è uno là sopra, in alto, in alto. Questo, noi siamo qua e lui è là. Guardalo, si vede qualcosa, c'è il riflesso. C'è proprio il disegnino dell'aereo che passa, guardalo lì. Allora, pranzato, purtroppo l'inverno vuol dire il sole che va giù troppo, troppo presto. Quello che non vi ho mostrato prima è che figata sia questa borsa che diventa uno zaino. Allora, una volta sganciato questo, noi apriamo qua il cerniere. Bretelline, si aggancia qua sotto, comunque diventa uno zaino. Ah, queste qua si girano all'indietro, si girano all'indietro. Ah, così è anche bello, perché ha la copertura. E questo qua è uno zaino completo. Cioè, guardate che dimensioni, dalla borsa di un drone. E che tramonto. Ma che figata. Stupendo. In che posto siamo. Stupendo. Devo volare. Vai, vai, tiralo fuori adesso. Sono ancora scandalizzato da quanto sottili siano questi bracci anteriori. Sono tipo la metà del Mavic Air 2S, che pesa molto meno. Tra l'altro... Hanno cambiato la melodia di accensione, dopo 4-5 anni che era sempre uguale. E così si conclude la nostra giornata di volo, ragazzi. Purtroppo, quel mezzo, quel drone, è una cosa talmente complessa, che le funzionalità che puoi testare in un'intera giornata, saranno per forza comunque una piccola percentuale di tutto quello che può offrire. 4.800 euro di drone. E visto che era nominato, parliamo anche di prezzo. Ha senso la versione cine? No, secondo me no. Per quasi tutti gli utenti no. Quell'SSD a bordo è una cosa assurda. Cioè, abbiamo registrato 60 giga di clip in una giornata con il drone. Voi ci credete che ho attaccato il cavo USB, quello che ti danno in confezione, che è un tronco di cavo USB grosso così? Attacchi la USB al drone, attacchi la USB al MacBook, tra l'altro ho i MacBook vecchi con Intel, cose varie. Ho trascinato 60 giga di clip sul desktop, mi dava meno di un minuto rimanente. Meno di un minuto per 60 giga. Quindi quella SSD a bordo è tantissima roba, ma non vale sicuramente 1000 euro in più. Quello che vale la differenza di prezzo tra il Pro e il Cine è ovviamente l'Apple ProRes, che immagino pochissimi di voi veramente finirebbero per utilizzare, perché solo per i professionisti che fanno filmmaking a livello sensato, non come noi altri che si fa video su YouTube e non ho neanche regolato giusto l'esposizione della fotocamera. Una cosa geniale che ho scoperto, che mi ero dimenticato di dirvi nella giornata di volo, primo drone DJI in assoluto nella storia ad avere l'Evita Ostacoli attivo e completo anche in modalità sport. Quindi Evita Ostacoli sempre attivo, tra l'altro Evita Ostacoli 5.0, possiamo vedere grazie al video di presentazione di DJI che anche in situazioni molto sfidanti, quali seguire una bicicletta in un bosco mentre si muove di lato, sta mappando in 3D tutti gli alberi e non becca neanche un filo d'erba. Quindi tanta roba, Evita Ostacoli sicuramente, gli scenariati automatici, i master shots, cioè a tutto quello che avevano i droni precedenti, più a una fotocamera assurda. Quello zoom, quello zoom 28 per... Allora, non è 28 per ottico ovviamente, abbiamo la lente USA per 1 per di zoom, chiaramente la lente normale, base, quella ciccionissima, potentissima. Tra l'altro non ho detto, sensore da 4 terzi di pollice. Adesso ci arriviamo, fatemi finire riguardo lo zoom. L'altra lente è zoom 8 per, quindi 8 per nativo. Infatti, se metti in modalità esplorazione, cliccando il binocolino sull'interfaccia, cacci il 2 per e perde un po' di qualità. Cacci il 4 per e la qualità fa abbastanza schifo. Arrivi all'8 per e di nuovo la qualità è buona, perché sta usando nativamente una fotocamera. E dopo dall'8 per, 16, 32... Zoomi all'infinito. Cioè ci sono veramente delle situazioni, guardate qui, come stiamo vedendo quell'orologio, ok, non benissimo, questa modalità non è fatta per fare riprese e avere video utilizzabili, è fatta per scouting, per scoprire le location, per mappare. Non solo se sei un videomaker, che magari vai a vedere il posto bello per filmare, e lo vedi già da lontano, ma anche se sei un search and rescue. Pompieri, protezione civile, soccorso valanghe, qualsiasi cosa abbia bisogno di vedere da lontano. Quello zoom è una bomba. Guardate come vediamo questo campanile da vicino, guardate quanto lontano era il drone. In questa situazione invece noi eravamo sul molo qua di questo laghetto, e vi giuro, eravamo in quattro persone, in totale silenzio, non si sentiva il drone, non lo si vedeva, cioè cercavamo con gli occhi, non lo si vedeva, eppure eravamo inquadrati da vicinissimo. Questa è una cosa un po' creepy, fa veramente paura, perché non lo senti, non lo vedi, è stranissimo, è stranissimo vederti in terza persona, e però non vedere niente che ti sta riprendendo. Però 28x di zoom è veramente tanto, 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 tanto. Come vi dicevo, l'altra magia che DJI è riuscita a compiere, è stata cacciare un sensore 4 terzi di pollice dentro un drone, sensore che fa 4K 120 fps, 4K 120 frame al secondo, su un drone, per fare i mega rallentatori assurdo. Però anche il fatto di mettere dopo un sensore così grande, cioè non esisteva quel sensore, hanno dovuto inventarselo, perché effettivamente quando sono usciti qualche mese fa i primi rumors riguardo un drone DJI con sensore 4 terzi di pollice, c'è molta gente che ha detto, no ma normalmente i droni o le action cam o qualsiasi roba al mondo ha sensori Sony, o Panasonic, o altre, vabbè, insomma ci sono due o tre produttori che al mondo producono tutti i sensori per tutte le fotocamere che esistono praticamente. E non esiste, va un 4 terzi di pollice di quelle dimensioni, con quelle prestazioni che permettesse di fare i 5, cioè non esisteva sul mercato, se lo sono dovuto inventare. Quindi per concludere, ha senso comprarlo? Secondo me, se vi sta pesando quel dito sul mouse, sul pulsante compra, lasciatelo cadere, fate questo acquisto, perché ne vale tanto la PC, cioè è proprio figo, come te, tanta roba come drone, e ti dura per anni. È come i MacBook Pro, uno dice, eh ma troppo potenti questi processori, certo, ma se ti dura per i prossimi 8 anni, il costo è lo spalmi. Quindi, secondo me ci può stare. Se volete fare le riprese della domenica, volete avere un drone per divertirvi, e basta così, Mavic Mini 2, cioè, fa già tutto quello che serve, Mavic Air 2S, o Air 2, in realtà che è ancora valido, sono un'ottima alternativa centrale, ma questo Mavic 3 Pro è tantissima roba. Ragazzi, per questo video è tutto, pollice in su, ci vediamo di nuovo, prima o poi, con il Mavic 3 Pro. Io comprerò un Pro, non il Cine di Yaki. Per questo video è tutto, ciao a tutti.